Oggi un mezzo della protezione civile cittadina ha prelevato 130 paia di scarpe antinfortunistiche che sono state donate al comune di Pordenone dalla ferramenta Scapolan, che ha aderito ad un'iniziativa promozionale della Bosch in favore dei comuni alluvionati. L'apprezzamento dell'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Moro. Siamo venuti a prelevare del materiale presso la dita Scapolan di Pordenone. La dita Bosch, tempo fa, ha proposto di donare a prezzi scontatissimi alla dita Scapolan del materiale antinfortunistico, in questo caso delle scarpe antinfortunistiche, ai comuni che avevano subito danni dalle esondazioni. Il comune di Pordenone è uno di questi e la dita Scapolan ha aderito. Dopodiché, invece che rivendere queste scarpe, ha pensato di donarle al comune di Pordenone. Noi oggi siamo venuti a ritirarle, le destineremo ad utilizzarle sia per la protezione civile, cioè per i volontari della protezione civile e sia per il nostro personale operaio. Credo sia un'iniziativa meritoria. Riceviamo gratuitamente 130 paia di scarpe antinfortunistiche di qualità, perché sono scarpe di qualità invernali, ed è anche un risparmio nei confronti della nostra protezione civile che necessita di questo dispositivo di prevenzione individuale.